Ah, sì, è solo notturno, devi assaltare. Sì, o notturno è sopendo. È sopendo, sopendo, ma chi è questo sopendo? Ma è meglio che me ne vado dentro, capito? Perché mi so fra, mi scurciate dove l'è. Io me ne la chiede. Ah, ma mi scurtavo pure le piazze e i bicchieri che quello me ne ha, me ne andava, è meglio. Deve guardare.